Per usare un'espressione allegreana, innanzitutto bisogna fare i complimenti alle Juventus Women che ieri nei minuti di recupero hanno ottenuto un 2-2 vitale in Champions League contro il Fosburg bianconere trascinate dalla doppietta di Cristiana Girelli non sono riuscito a fare il video a caldo dall'esterno dello stadio perché il post partita, le conferenze di Gio Montemuro e di Cristiana Girelli sono andate un pochettino per le lunghe quindi bisogna rimanere sul pezzo ma mi ha fatto estremamente piacere, si è vista l'emozione negli occhi di Cristiana quando ha detto realizzare una doppietta in questo stadio nel giorno che compie il compleanno del mio idolo Alessandro Del Piero per me è un sogno che si avvera Cristiana Girelli ha più riprese, ha sempre detto come il suo idolo da bambina fosse Pinturicchio e ieri quindi nel giorno in cui Alex ha compiuto gli anni Cristiana si è tolta questa bella soddisfazione e soprattutto ha regalato un punto che ai fini della qualificazione alla prossima fase della Champions League potrebbe significare, se non molto, io direi tutto perché parliamo davvero di questo 2-2 ottenuto dalle bianconine contro il Fosburg all'insegna di una prova non bellissima secondo me è un passo indietro a livello di performance rispetto alla gara che era stata conseguita contro il Chelsea però i giochi nel girone sono ancora aperti e quindi le Juventus Women la prossima settimana in quel di Fosburg capiranno se riusciranno ad andare avanti in Champions o meno quindi anche ieri prova di grande carattere in Italia questa squadra sta dominando vincendo tutte le partite ma da quando è arrivato Montemuro c'è stata anche una crescita esponenziale in Europa quindi musica per le orecchie e per i quasi 13.000 spettatori che ieri erano presenti allo stadio andamminare le gesta delle bianconiere fatto questo inciso parliamo di Mohamed Yattaren o Yattaren che dir si voglia perché in tantissimi mi avete chiesto in queste settimane cosa stesse accadendo a questo giocatore quale fosse la situazione e oggi voglio sfruttare anche l'assist che ci ha dato direttamente il suo agente Mino Rayola che ha parlato ai microfoni di World War International e ha detto testuale sapete che non parlo mai dei miei giocatori ecco perché non scrivo per esempio un libro quindi non dirò parole cattive su Yattaren se vuole ancora il mio aiuto lo aiuterò ma è vero afferma Rayola è vero che non abbiamo avuto nessun contatto per un po' quindi inzitutto queste parole di Mino Rayola ci sottolineano il fatto come questa situazione sia ancora piuttosto precaria un breve riassunto la Juventus in estate acquisito dal PSV Eindhoven il cartellino di Yattaren classe 2002 un'operazione che tra parte fissa e bonus potrebbe raggiungere complessivamente circa i 3 milioni dopodiché in sinergia con la Sampdoria la Juventus ha parcheggiato questo ragazzo in prestito fino a giugno alla corte di Roberto D'Aversa cos'è successo secondo le informazioni che ho raggiunto io? innanzitutto Yattaren si è presentato fuori forma fonti vicino alla Sampdoria mi dicono che si sia presentato con circa 4 kg in più quindi cos'è successo? che attraverso il suo staff Roberto D'Aversa ha proposto a Yattaren un percorso individuale per rimettersi in sesso e per poi aggregarsi gradualmente al gruppo e le cose inizialmente sono state molto bene perché Yattaren pur presentandosi visibilmente fuori forma ha seguito questo programma personalizzato ha buttato giù i chili che doveva buttare è salito di tono atletico e quindi quando si pensava che fosse ormai un passo dal debutto nel campionato con la maglia blu ciorchiata esploso il caso Yattaren come ben sapete è tornato in Olanda e quindi la Sampdoria e quindi D'Aversa si sono ritrovati senza un giocatore ve lo dico subito non entro nello specifico della vicenda perché credo che queste questioni delicate e private debbano rimanere nella sfera personale quindi anche se magari mi è giunto a orecchio qualcosina in più non la divulgo sono questioni personali e bisogna rispettare i momenti difficili dei giocatori soprattutto se poi non coinvolgono più le performance tecniche bensì quelle legate alla testa quindi da questo punto di vista questa è la mia etica professionale e non spettelerò ai 4-20 cosa sia accaduto o cosa penso che possa essere accaduto in relazione anche a quanto mi è giunto all'orecchio però ce n'è anche da dire che non bisogna costruire una storia nella storia nel senso sicuramente Yattaren sta avendo delle difficoltà sicuramente ci sono dei problemi con la Sampdoria perché se Yattaren è rientrato in Olanda è scappato dal campionato italiano significa che con la Sampdoria la storia non si è andata in migliore dei modi ma facciamo anche attenzione a dare per scontato per esempio che Yattaren non voglia più tornare a giocare assolutamente no Yattaren lo ha anche confermato in prima persona ai dei media locali ha intenzione di rientrare a giocare e ora però questo discorso coinvolge principalmente la Juventus perché è la detentrice del cartellino di questo ragazzo e perché ora dovrà trovare una soluzione affinché Yattaren possa tornare a giocare molto ma molto probabilmente con una casacca differente rispetto a quella della Sampdoria io tra l'altro so per certo che la Sampdoria anche nel momento di maggiori difficoltà di Yattaren quando è rientrato in Olanda ha cercato di aiutare il diretto interessato mettendo a disposizione anche i suoi staff nella sua totalità quindi per cercare di recuperare il ragazzo dal punto di vista psicologico quindi non è che la Sampdoria abbia iniziato a sparare a zero su questo giocatore o quant'altro anzi da club di grandissimo livello qual è? la Sampdoria ha cercato in sinergia con la Juventus di fare in modo che il ragazzo potesse rientrare a Bogliasco e quindi che potesse poi tornare ad allenarsi sotto lo sguardo attento di Roberto D'Aversa però essendo una situazione molto complicata e che può mutare da un momento all'altro è chiaro che la Sampdoria deve anche aspettare la volontà del giocatore e anche rispettarla il tutto però con un danno arrecato perché se è vero che la Sampdoria ha questo accordo con la Juve per tenere a Yattaren fino a giugno il danno arrecato è che ti manca un giocatore in rosa poi sicuramente stiamo parlando di un ragazzo che avrebbe dovuto dimostrare tutto il suo valore in Italia quindi non di una certezza ma di certo quando vai a costruire l'organico vai anche a lavorare sulle caratteristiche verosimilmente potenzialmente Yattaren avrebbe voluto rappresentare per D'Aversa una pedina utile anche in relazione al fatto che stiamo parlando di una squadra che ha grandissime difficoltà di classifica e quindi l'estro di questo ragazzo che è in eredivisa ha già dimostrato ampiamente il fatto suo avrebbe potuto fare comodo e come però la Samp non è affatto una questione diciamo di guerra con la Juventus si è messa a disposizione ha cercato di recuperare il ragazzo che però come ben sappiamo non è ancora rientrato a Genova cosa succederà ora? io credo che all'insegna del buonsenso con i giusti modi perché lo ribadisco se i problemi non riguardano più l'aspetto tecnico bensì la testa bisogna andare non cauti ma proprio cautissimi e rispettare anche le decisioni dei giocatori poi è vero che la Juventus ha effettuato un investimento come vi ho detto tra parte fissa e bonus che potrebbe arrivare a toccare i 3 milioni ma essendo questo ragazzo un classe 2002 ed essendo soprattutto prima di tutto un ragazzo un uomo e poi un calciatore bisogna fare in modo che Yattaren torni con la giusta serenità lo ribadisco questa voce di un presunto ritiro è stata smentita anche da persone molto vicine al ragazzo oltre che dal ragazzo stesso con una dichiarazione che è uscita nei giorni scorsi dai media locali quindi non costruiamo un caso nel caso però credo proprio che ora la macchina organizzatrice di Juventina partirà con l'intenzione probabilmente anche di spostare Yattaren dalla Samp poi andrà trovata un'intesa con i blu cerchiati per fare in modo che possano essere risarciti o quantomeno si possa trovare una soluzione ma i rapporti tra Juve e Samp sono ottimi quindi non ci saranno problemi però occhi puntati su questo ragazzo perché tornerà a giocare e bisogna capire con quale casacca lo farà in quale campionato lo farà ma lo farà perché questi sono anche i segnali che ha ricevuto la Juventus nell'ultimo periodo e quindi queste parole di Mino Raiola ci fanno capire come le difficoltà non stiano mancando ma il tempo stesso come un caso ci sia ma non si debba ulteriormente alimentarlo con degli incendi che vanno solamente poi a rendere la situazione ancora più precaria e quindi rispettiamo anche i momenti di difficoltà dei calciatori perché lo ribadisco sempre proprio come noi prima sono uomini e poi esercitano le loro professioni però si va verso una nuova sistemazione a Yattaren ancora tutto da scoprire con la Sadoria che avrebbe anche piacere rilanciare questo giocatore che si è messo a disposizione per aiutarlo al punto di vista psicologico ma ad oggi i feedback sono stati da questo punto di vista molto negativi e la palla passa interamente alla Juventus che gestisce il cartellino di questo ragazzo e che quindi in prima persona dovrà trovare una soluzione affinché possa essere messo questo punto su una situazione che va rispettata ma al tempo stesso anche monitorata perché è abbastanza volubile un abbraccio grazie a tutti